Cento anni vissuti nell'esempio e nella virtù dell'amore per la famiglia. Queste alcune delle parole scritte sulla targa che l'amministrazione comunale di Sanza ha preparato per celebrare l'importante traguardo dei cento anni raggiunto da nonna Rosa. Cento anni dunque non sentirli nell'affetto e nell'abbraccio di due comunità, quella di Sanza e quella di Rofrano, che si ritrovano per festeggiare l'amata nonnina. Nonna Ronsini veniva al mondo il primo febbraio del 1921 a Rofrano. Oggi vive con suo figlio Giuseppe e la sua famiglia a Sanza, una vita dedita al lavoro e alla cura dei propri cari. Cento anni splendidamente vissuti nell'abbraccio collettivo dei figli e dei nipoti che oggi si ritrovano insieme alle amministrazioni comunali di Sanza e di Rofrano per festeggiare l'invidiabile traguardo. Nonna Rosa, tra l'altro, è la nonna paterna del vice sindaco di Sanza, Toni Lettieri. Oggi dunque si festeggia sempre nel rispetto delle norme anti-covid, un evento che viene celebrato dal sindaco Vittorio Esposito con la consegna di una targa commemorativa e un messaggio di auguri da parte dell'intera comunità.